facciamo quest'altra prova? si sta già scaricando la batteria ma io non voglio che no radio via ho capito Gesù? si spettacolo grazie eva sta scaricando la batteria va bene le impostazioni così alla dirette prossimo Sanremo Sanremo ho sentito l'ha ripetuta ha ripetuto Sanremo è terribile mi stai guidando tu oggi Sanremo? mi vedi? incredibile c'è qualcuno che vuole mandare un messaggio? a proprio caro non vedo non vedo mi chiedo vi chiedo protezione nelle prossime dirette che farò grazie ci salutiamo grazie per questo piccolo test comunque grazie appena posso faremo le dirette e contattiamo i propri cari del gruppo grazie grazie ce l'ho ce l'ho ho sentito no la diamo veloce la diamo veloce no va bene comunque questo sistema funziona mi piace grazie si funziona va bene ora qui abre il bloc si va bene va bene poi si Grazie.